Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, Duelist Nexus rilascerà dei nuovi supporti pure lì che a quanto pare dopo Cybersome Access ha avuto un'impennata di quelle clamorose incredibili e devastanti dato che Cybersome fra un po' uscirà anche da noi, credo che può darsi, poi ovviamente i metà sono diversi e probabile che magari possa non fare niente come diventare il più grande potente mazzo kawaii della storia dei kawaii però insomma potrebbe essere un mazzo da tenere d'occhio, prima di iniziare ragazzi come sempre vi invito a scrivermi una sonnale per venire sempre a giornalismo mondo di Yugi mi raccomando ragazzi è importantissimo, grazie mille, è solo grazie a voi che possiamo continuare a portare contenuti e a migliorare ovviamente il canale e andiamo a vedere questi nuovi supporti allora un nuovo Xyz e pure di Noir perché mi suona così familiare? C'era un altro Noir, vero? però mi pare che aveva un rank superiore allora due materiali di livello 2, vabbè, abbiamo un livello 2 due materiali di livello 2 una volta per turno possiamo scartare una carta per targhettare una carta all'avversario o fino a due carte se questa carta ha pure gli slipi memory e farle rimbalzare in mano fino a tre volte per turno quando attiviamo una carta pure l'immaggio rapida effetto rapido possiamo attaccare quella carta dal terreno, questa carta ha come materiale poi possiamo settare una trappola d'archetipo dal deck non male, ti fa anche il set e c'è anche, a parte che rimbalza 2 ma rimbalzi 1 e rimbalzi 2 il che potrebbe essere devastante in determinati situazioni e andiamo a vedere il pucciottissimo tier 1 no sto scherzando oddio però potrebbe, non lo so non lo so io e i miei mazzi siamo oltre il tier per quanto sono potenti per quanto sono archetipi devastanti allora pure lì targettiamo pure lì se controlliamo specialiamo un mostro livello 1 d'archetipo dal deck ma se effetti sono legati se lo facciamo specialiamo dall'archetipo dal deck pure lì con lo stesso rank del mostro targettato ma con i differenti attributi del mostro utilizzato come materiale viene trattata come evocazione tramite Xyz poi possiamo prendere dal deck una carta con lo stesso nome di una purer immaginabile attaccata al mostro come materiale e lo attacchiamo all'Xyz appena evocato oh mio dio e che cavolo ma fate un testo più corto meno decifra cioè mamma mia il codice da vincere era più decifrabile di questa roba e quindi fondamentalmente è un'altra carta che ti consente di evocare un pure in questo mondo però tu ne hai anche due sul terreno no? giusto? eh sì perché evochi un altro pure tanto i mostri di me ne sono due quindi uscirà da Cyberstone Hatches mi pare e quindi saranno due il mazzo a quanto pare potrebbe avere un potenziale mega giganterrimo già mi vedo comunque l'Xyz che sarà ultra raro da noi la trappola potrebbe essere super Secret Ultra questo mi pare eccessivo però bisogna vedere potrebbe essere super perché delle carte trappola baggate per archetipi delle volte l'hanno messa anche super quindi possiamo ipotizzare che può essere super questo invece me lo immagino ultra raro comunque pure lì teniamolo veramente d'occhio detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa pensate ovviamente noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti a tutti